Questa mattina abbiamo intervistato il biologo e naturalista Cristian Gori per parlare dei lupi, che in questi giorni sono stati spesso avvistati in città. Partiamo col dire che si tratta di lupi appenninici che tendono a favorire le zone montane intatte, densamente forestate e lontane dall'interferenza umana. Sono animali che dimostrano prediligere stare svegli nelle fasi crepuscolari e notturne. L'avvicinamento in città è dovuto al fatto che gli uomini invadono sempre più gli spazi naturali, che sono l'habitat dei lupi e quindi per sopravvivere hanno bisogno di avvicinarsi per cercare cibo. Il loro istinto li spinge a riappropriarsi della natura che è la loro casa. Cristian si ha spiegato come comportarsi in caso di avvistamento di questi esemplari, che saranno sempre più presenti nei nostri territori. Ultimamente a Fano sono stati avvistati dei lupi e ne stanno avvistando sempre di più. Ci spieghi perché? Sì, sta aumentando poi le segnalazioni. È un animale che sta aumentando in tutta Italia, un fenomeno generalizzato, e sta tornando in quei posti in cui prima era presente. Siamo aiutati a pensare a un animale di montagna, di collina. In realtà questa è un'idea sbagliata perché fino all'anno 70 il lupo era quasi estinto. C'erano 100 esemplari nell'Appennino e il resto era spopolato. Ora con le politiche di conservazione, con l'aumento dei parchi, questo lupo sta aumentando in numero e quindi sta tornando in quei posti in cui c'era. E Fano c'era una volta e quindi sta tornando in questi posti. Che cosa mangia di solito il lupo? Il lupo è un predatore e di conseguenza caccia le prede che trova nella sua zona. Quando sta nel bosco, sta nella pianura, ha le sue prede selvatiche. Se invece sta in città, trova la città, chiaramente inizia a puntare e a cercare anche i predi più facili. Per esempio cane o gatti, infatti come sappiamo ci sono dei casi in cui ha predato questi animali. Purtroppo accade perché ovviamente il lupo, come tutti gli altri animali, si deve cibare, deve mangiare. E quindi questo accade proprio perché, ricordiamo, che appunto sono state contaminate dagli uomini i suoi territori. In città trova questo e quindi si cerca questo. Come fare per mettere in sicurezza i propri animali dal lupo? Bisogna tenerli sott'occhio, bisogna guardarli, quindi evitare di farli uscire durante la notte, per esempio. Evitare di lasciarli liberi. Bisogna controllarli, è l'unico modo per fare. Che cosa fare in caso di avvistamento di un lupo? Mettiamo che stiamo camminando all'improvviso, sia di giorno o di notte, ci troviamo di fronte a un lupo. Il lupo normalmente scappa alla nostra presenza perché ci riconosce come un pericolo. In un caso normale il lupo ci vede e scappa alla nostra presenza e quindi va bene così. Quando invece il lupo non scappa gli può dare nessun problema perché questo animale selvatico riconosce che noi non siamo un pericolo così come dovremmo esserlo. In quel caso la cosa migliore da fare è spaventarlo. E in che modo lui riconosce che non siamo un pericolo? Perché rimane ancora vicino a noi. Se un animale ha paura scappa alla nostra presenza, se invece rimane vicino a noi chiaramente capisce che non siamo così pericolosi. perché magari ha già visto altre persone che sono avvicinate, hanno provato a dargli da mangiare, non sono stati minacciosi come magari si immaginava, come si aspettava. Quindi quello che bisogna fare in questi casi è scacciarlo, spaventarlo, urlando, alzando le braccia senza lanciare nulla, senza lanciare oggetti. Assolutamente rispettando l'animale in tutto e per tutto, semplicemente urlando per esempio. Esatto, in questo modo capisce che siamo un pericolo e quindi se ne va. Perché appunto il problema grosso per questi animali è che diventino confidenti. Cioè quando un lupo comincia a perdere paura per le persone, allora è lì che potrebbe nascere il problema. Perché si conoscono dei rarissimi casi, però documentati, per esempio il lupo di Otranto, di Vasto, oppure l'ultimo di Finale Ligure, in cui dei lupi hanno attaccato delle persone. Però sono eventi rarissimi, spieghiamolo bene. Sono casi rarissimi ma collegati ai lupi confidenti, quindi per questo la cosa importante è scacciare questo animale, perché non deve essere confidente, è un animale che ha paura delle persone. Ricordiamo a tutti che il lupo è un animale protetto. Esatto, e la cosa importante è imparare a conviverci con questo animale, appunto perché sarà una presenza ormai costante nel nostro ambiente e bisogna imparare a comportarsi con questo predatore.